L'ultimo bollettino ha certificato un leggero aumento di casi, più 224, a fronte però di un numero sempre alto di vittime, 7 nelle ultime 24 ore. Il maggiore aumento di positivi si riscontra nella provincia di Reggio Calabria, che va a più 82, seguita da quelle di Cosenza, più 53, di Crotone, più 37, di Vibo Valencia, più 29 e di Catanzaro, più 23. Sono stati 827.038 i tamponi eseguiti su un totale di 761.861 soggetti. I casi di Covid sono così suddivisi nel Reggino 21.738, casi attivi 1.912, nel Cosentino i positivi riscontrati sono stati in tutto 21.658, casi attivi 7.460, 14.196 i casi nel Crotonese. I casi riscontrati sono 6.111, gli attivi sono 7.86, 5.325 i casi chiusi. Nel Vibonese i casi salgono a 5.243 e gli attivi sono 352, 4.891 i casi chiusi. Nel Catanzarese, infine, i contagi accertati sono stati finora 9.488, casi attivi sono 1.822, 7.666 i casi chiusi. Da altra regione e dall'estero si registrano 51 casi attivi e 343 casi chiusi, tutti guariti.